Ce la farà il nostro amico? Mi sai no? Comunque un TVZ verrà il primo match Quindi buono Ma il map pull qual'è Enrico? Quello lì l'hudder? Ah ok Una a caso Ok Il birraio è pronto E si parte Buona benvenuta a tutti GG Ok Sono tutti pronti Ok del birraio Ok di Devil Dexter E quindi si parte GLHF Scriviamolo anche noi Sono io per portarci vostra Bene TVZ per il primo match Di questa cv amichevole Tra gli Ace of Spades E il team Multigaming Deciamass Insomma Vedetta abbandonata Per questo Primo game Quindi Penso sia Best of One Vero? Sì sì O Kill Best of One Ok Quindi Terran Argento contro Zergoro Due giocatori Interessanti Almeno io conosco Insomma Devil E il suo modo di giocare Veramente Interessante Comunque Si parte Nell'angolo in basso A sinistra Troviamo David Dexter Giocatore del team Mesospace Gold Ex Platino Quindi diciamo Un giocatore Assolutamente Temibile E soprattutto Molto bravo E Dall'altro angolo Invece Nell'angolo in alto A destra Troviamo Il birraio Giocatore Terran Del team Deciamas Che appunto È il lega argento Ma evidentemente Vale la gold Perché è stato appunto Schierato in questa line up Quindi verremo sicuramente Una Una partita Non rientrata Al macro game Intanto Lag a Gessnow Io direi che Vorrebbe anche Vederla In streaming Però vabbè Vediamo un po' Manda subito Il drone Da scout David Dexter Non è una Una buona mossa Quella di Devil Perché alla fine Proxy Reaper O cose Così diciamo Che in leghe basse Non vengono Tanto utilizzati Sì 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 comunque Conviene Ok Intanto viene mandato L'observe E cioè Il sorvegliante Da parte di David Dexter Che Va verso La base Avversaria Insomma A scautare Intanto arriva Anche il drone Vediamo se Dà fastidio A questo SCB Lo inizia ad attaccare Vediamo la micro Del giocatore Terran Che sembra assente Attenzione Perché Vorrebbe perdere Questo SCB Non lo salva E inizia E inizia Insomma La danza Esatto Ma attenzione Perché Ora Devil Se lo porta a casa Viene ucciso Il drone Che faceva La caserma E praticamente Devil Ora ha acquistato Un buon vantaggio Perché ha buttato Giù dall'altra parte La seconda base Mentre È praticamente Ancora a metà La costruzione Da caserma Da parte Del birraio Che a questo punto Deve ritardare I suoi piani Di espansione Quindi Buona buona mossa Da parte di Devil Dexter A mio avviso Se migravo un pochino meglio Il drone Mandato Era un drone Perso Per i minerali Però vabbè Comunque Viene buttata giù Una pozza germinale Da parte di Devil Dall'altra parte Invece È ferma Completamente La produzione Ah no Viene fatto adesso Un centro di comando Più marine Da parte Del birraio E in più Viene fatta anche Una raffineria Quindi Diciamo Una build standard Un pochino in ritardo Forse è preso il gas Ma No È piuttosto normale Contro Zerg Prenderlo Dopo un po' Comunque Magari Userà Per prendere Per fare Ripper di scout Sì È possibile Però Se voleva fare Ripper di scout Lo prendeva a 13 Dato che l'ha preso a 16 Probabilmente farà Fabbrica Con Vediamo un po' Tank O reattore Vediamo un attimo Comunque viene preso Una seconda base Da devil dexter Quindi macro game Insomma Sono sorpreso Davvero Mentre All'altra parte Devil dexter Procede con la creazione Di due queen Più un gas Che Praticamente Servirà solamente Per prendere L'incremento Metabolico E quindi La speed E quindi La speed Dall'altra parte Invece Continua la produzione Di marine Più Mi si sente male Leo Mi si sente male Sì Sì C'è C'è un po' Troppo La voce Un po' Troppo Metallica Ah E Boh Al massimo Ora 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 si sente male Ok Non vorrei che sta Laggando di S Enrico Perché io Ti sento laggare Eh Allora Mi si sente di S Ok Speriamo di no Comunque I due Zergling Da scout Vengono migrati In modo eccellente Da devil dexter Che Li splitta E li manda Praticamente Alle Naga Mentre All'altra parte Viene perso un bunker Più la seconda base È operativa In questo momento Dall'altra parte Due caserme Più una fabbrica Per Birraio Mentre Devil Continua solamente Il suo giro di droni E non ha fatto Unit Per il momento Ora va a prendersi Addirittura una Terza base Il giocatore Zerg Del nostro team Dall'altra parte Un marine Viene mandato A scoutare Certo il marine Non è propriamente Veloce E infatti Viene subito Ucciso da questa queen Che prende solamente Qualche danno E fa fuori Appunto Il marine da scout Dall'altra parte Viene preso Un altro Centro Un altro Comando orbitale Quindi E anche tank Attenzione Attenzione Tank per il Birraio Quindi Mossa interessante Anche Elyon blue flame Vorrebbe fare Però no no Opta per i tank Quindi Mossa saggia E difensiva Forse aveva Aveva immaginato Le 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 roach Scan Sulla prima base Da parte del Birraio Ma non Non vede molto Vede due gas Forse si immagina Qualche Qualche Cis strano Però ora Vede la terza No vabbè No a livello Di roach Oppure Binding bust Di solito Quando si scaudano Tanti gas O sono Muta O appunto Roach Con Con Hydra Non so Comunque Mossa interessante Quella di Andare a tank Dall'altra parte Trilax Per Il Birraio Che ora Addirittura Si muove in avanti Con un esigua Quantità di marine E un tank Non credo Farà molti danni Questi di Zergling Sono sufficienti A sorroundare Completamente Quelle poche unità Del terra Infatti Si ritira Rapidamente Probabilmente Ha visto Con L'SCP Che aveva mandato Ad attaccare Il bivaio Insomma Che stava arrivando Stava 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 Però È stato Annullato Dall'altro Che è Avanzato Si Si Piccolo Saggio Della difesa Terran Assolutamente Quindi Per il momento Quattro caserme Da parte del Birraio Più Una sola Fabbrica Non ci sono Medivac Al momento Non ci sono Officine Per gli Upgrade Attenzione Perché i tank Fanno fuoco amico Quindi Deve stare attento A non perdere Questi marine Il giocatore Terran Dall'altra parte Devil Dexter Intanto si sta assicurando Un'economia molto solida Due camere evolutive Per i potenziamenti Più Diciamo Un impaler Per la difesa estrema Della seconda base Dall'altra parte Invece sta fullando Completamente La terza base Il giocatore Zerg Quindi Che avrà sicuramente Un vantaggio di macro Deve buttare giù Una terza Assolutamente Il birraio Ma ora Ma ora si fa Ehm Praticamente Il rischio In quanto Il divario Di Di SCV Sì Oddio A parte comunque Che Ecco Ora da ora Si sta sentendo Il divario Che la macchia Ehm Attenzione Si è full Ma Attenzione Perché ora perde Tantissimi unit Il birraio E quindi Molto probabilmente Ehm Insomma Non dico che Devil Dexter È già in grande vantaggio Ma poco ci manca Perché al doppio di supply Eh sì Ehm Al doppio di supply Una base in più E Il birraio sta continuando A fare sostanzialmente Marine Senza steampack Che è il No Che non è nemmeno ricerca A circa 600 600 minerali 300 gas Bancati Vantaggio Si Comunque Eh Sta facendo tutto Quasi Eh Sta facendo lanciar fuori Sta facendo Ha buttato giù Eh Il napolo E Banner E Banner Con Il relativo Upgrade Insomma Sì sì È netto vantaggio A mio avviso Eh Comunque Dall'altra parte Entrambi Anzi no Dall'altra parte Il birraio sta bancando 700 minerali E dal E invece David Dexter 1100 addirittura Male Male questa cosa Per entrambi i giocatori Che a questo punto vuole Eh Sarà che vuole Far uscire Tutto uno stormo Di muta Tutto insieme Ah è probabile È vero Perché ha buttato giù Un pinnacolo Ed è quasi finito Quindi 13 mutalische Sul campo di battaglia Sono veramente Un numero importante Un numero importante Intanto Il birraio si è assicurato Una terza base Ha un po' fregato Diciamo Lo scout di Devil Dexter Che era andato a vedere Su questa base E Sostanzialmente Non aveva trovato Niente Normalmente Si fa Si fa l'inzio Ma Si si No infatti La propone È una scelta Un po' azzardata A fare una terza Perché È Difficilmente difendibile E via Con questi Scans Sì Quarta base Per Devil Dexter Più 15 mutalische 15 mutalische Sul campo di battaglia Vai a ragione Enrico Quindi E queste muta E queste muta Faranno malissimo Perché non ha Sostanzialmente Delle torrette Lanciamissi Né delle mine Sulle varie Sulle varie Linee merarie Quindi Perderà Quasi sicuramente Questa base Deve stimpaccare No non ha lo stimpac Che incredibile 13 minuti senza stimpac A questo punto A questo punto Lascia andare in fiamme Questa base E si ritira E si ritira 13 minuti senza stimpac Eh beh sì Un po' È come di 13 minuti senza la sfida Dei link Eh Eh no Anche perché Stanno andando pari in tank Sarà l'emozione Della tua partita E infatti E infatti Dall'altra parte Mamma mia Quante mutalische Un numero esagerato Di mutalische Sta arrivando Sulla Seconda base Del giocatore terram Vediamo un po' Se farà danni Oddio Oddio non se ne accorge Attenzione percora Prende i marine Prende i marine Probabilmente Però non hanno stimpac Quindi vanno troppo lenti Quindi vanno troppo lenti Sì sì no È in produzione Però Se ha proprio dimenticato Ha fatto lo shield Però non Vabbè peccato Eh magari Ha vincicato Magari È possibile Che fa che Nevece ha fatto Attenzione perché Questo numero di marine È importante Ma viene sorroundato Da veramente Un numero di linghi Esagerato A questo punto David Dexter Sì sì Oltre ai linghi C'erano pure i banning Ma attenzione Perché ha perso La terza base Ha perso La terza base Devil Sì O come Ma Il Bantaggio Sì oppure Rischia Rischia Veramente di succumbere Però attenzione Che butta giù subito La terza base No a questo punto Non penso Ci possa essere Un comeback Da parte del Terran Anche se i Terran Non muoiono mai Ma il numero Veramente Attenzione Oddio La mina La mina Quanti kill Ha fatto questa mina 12 12 kill Della mina Veramente GG Doveva far Doveva farne Di più Di mine Marine tank Si faceva su wall Ma Quando Da quando Non è fato Diciamo Il raggio D'azione Il raggio Del colpo Del tank Non sono molto Utili Comunque Intanto Ma ora Massa 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 Bunning Eh 17 Bunning In produzione Prova a splittare Però Attenzione Vediamo un po' Però il numero È esagerato Esagerato proprio Oddio La mina Che prende 30 kill 30 kill Una sola mina Quindi Pensate Se Il birraio Avesse fatto Più mine Secondo me Poteva Poteva reggere Comunque E la partita Sempre finita in modo diverso Comunque Intanto Devil Dexter Secondo me Se l'è portata a casa Perché non può far molto Il birraio Che è prossimo al GG Perché le unità di Devil Dexter Amanzano fiere Infatti arriva il triplo GG Da parte del birraio Quindi Devil Si porta a casa La prima La prima partita Ottimo davvero Peccato perché Il birraio Poteva Si